Ancora attentati in Turchia, almeno 13 soldati sono rimasti feriti in seguito a un'esplosione avvenuta nella provincia orientale di Mushe. Dietro all'attacco si sospetta esserci la mano di membri del PKK kurdo. La bomba è stata fatta detonare al passaggio del mezzo blindato su cui viaggiavano i militari turchi all'ingresso del villaggio di Sulugia. A poche ore dall'attacco il Ministero degli Esteri di Ancora ha fatto sapere che la Turchia continuerà le operazioni militari nel nord dell'Iraq contro le basi del PKK perché il paese ha il diritto di difendersi. Intanto proseguono le manifestazioni per dire stop al terrorismo e al conflitto tra Turchia e PKK che dalla rottura della tregua luglio ha causato centinaia di morti. Per questo giovedì nella capitale turca è previsto un imponente corteo che attraverserà tutta la città. Grazie a tutti.